da impegnare. Credit Agricole Friuladria si è giudicata fino al 2023 il servizio di tesoreria di Avepa, l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. La firma della nuova convenzione è venuta a Padova e la conferma di un rapporto avviato nel 2009. Nel solo 2017 i contributi erogati da Avepa attraverso Credit Agricole Friuladria montano ad oltre 600 milioni di euro. In un decennio la banca ha erogato per conto di Avepa circa 6 miliardi di euro di contributi in agricoltura. In questi dieci anni noi siamo i primi in Italia per pagamenti alle imprese agricole. 120 mila imprese che hanno negli ultimi due anni richiesto 27 mila domande su 70 bandi circa e abbiamo dimostrato che noi paghiamo le nostre imprese agricole in 45 giorni di tempo. Quindi sicuramente è un tempo che sfido qualsiasi amministrazione pubblica di averlo. Le linee guida delle strategie future ha chiarito il direttore generale di Credito Agricol Friuladria Carlo Piana sono il biologico, le filiere e la consulenza evoluta. Il biologico è un filone che sta prendendo piede anche al di là delle aspettative che forse gli operatori avevano. Per quanto riguarda invece le filiere è un approccio che il Credito Agricol mantiene da sempre perché occorre conoscere il prodotto da quando viene prodotto appunto a quando arriva sulla tavola dei consumatori. L'ultimo punto che è quello su cui stiamo investendo di più è quello di portare il globale al locale, cioè di portare di fronte al nostro cliente la competenza di un gruppo che è uno dei dieci più grandi al mondo e che è nato con l'agricoltura. Attraverso un sistema esperto si ha quindi la possibilità di testare subito la sostenibilità e la finanziabilità del proprio progetto. Le modalità del sistema messo appunto in Veneto sono diventati un esempio in Italia.